Eccoci ragazzi, siamo tornati insieme e dobbiamo purtroppo aprire questa parentesi riguardante il caso Acerbi Perché dico purtroppo? Perché questi episodi del mondo del calcio, soprattutto nel 2024, non dovrebbero più sussistere Ammesso e concesso che si sia verificato, perché comunque dobbiamo ancora mettere le mani avanti Acerbi ancora una volta ha dichiarato di non aver voluto offendere Juan Jesus con appellativi razzisti Anzi lui dice di aver detto se continui ti faccio nero, nel senso è proprio un modo di dire italiano Però poi la dietrologia che c'è stata, sì ma qualora tu davvero avessi detto questa cosa al tuo compagno Comunque al tuo avversario, c'era poi bisogno di andare a scusarsi in questo modo così eclatante, così pomposo E dall'altra parte perché Juan Jesus ha ammesso e concesso appunto che abbia capito bene Abbia voluto ribadire ancora una volta che in realtà non è più quello che succede nel campo, rimane nel campo Ma invece chiede giustizia Secondo noi Juan Jesus dice la verità o dice il falso? Noi dobbiamo deciderci su questo E no ma anche su Acerbi allora Perché sì però Acerbi ha cambiato la versione, nel senso che ha detto prima se scusate poi dopo ha detto non ho detto quella roba Ma Juan Jesus che lo ripete due volte Perché ti scusi se non hai detto quella cosa? Cosa? Perché ti scusi se non hai detto un insulto? Appunto, appunto Io in genere se insulto una persona e chiedo scusa vuol dire che l'ho insultata Esatto Altrimenti ti dico quella che hai capito male Però io voglio capire visto che qua stiamo tutto a cercare di trovare il nesso tra tutte le varie dichiarazioni Se Juan Jesus, noi crediamo a quello che ha detto Juan Jesus che tra l'altro l'ha ripetuto due volte Sì Anche quando ha sentito la replica di Acerbi Acerbi Quindi dobbiamo deciderci su questo perché per me Juan Jesus non va in televisione, non va sui social a dire una cosa contraria di quella che c'è stata Non va a pubblicare un post su Instagram dicendo mi ha detto questo, questo e quest'altro Non voglio etichettare di razzismo Acerbi perché non credo che Acerbi sia razzista No Acerbi si è lasciato, lui è in maniera molto superficiale Sì Approfittando del fatto, come dicono sempre i giocatori, dell'adrenalina che c'è in campo Dice sai, lì in mezzo succede di tutto, ci diciamo di tutto E ne ha approfittato un po', è scivolato È scivolato Quello che non ho apprezzato è che, scusa, prima dici scusa e poi dopo cambi tutta la versione Allora a tal proposito facciamo un passo indietro, facciamo chiarezza, abbiamo delle grafiche da farvi vedere E vi dico anche cos'è successo perché Chi ne è il procuratore federale ha ascoltato ieri entrambi i giocatori quindi sia Acerbi sia Juan Jesus E poi sarà il procuratore federale Mastrangelo a dare sentenza Allora, guardiamo un attimo le grafiche inerenti alle tre ipotesi che possono accadere a Acerbi Eccole qua La prima Acerbi prosciolto per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto La seconda Acerbi condannato per violazione dell'articolo 28 del codice di giustizia sportiva, ossia almeno 10 giornate di squalifica O a tempo determinato sia fino alla data XY Terza ipotesi Acerbi condannato minimo di due giornate salva attenuanti o aggravanti per la violazione dell'articolo 39 del codice di giustizia sportiva condotta gravemente antisportiva Esempio Lukaku Ibrahimovic In più vi faccio anche vedere l'immagine dell'articolo 28 del codice di giustizia sportiva Perché va tutto insieme di modo che possiate avere il quadro completo generale della situazione Allora, i comportamenti discriminatori che cosa sono? Sono quelli che, o meglio il singolo che cos'è? E' quello che costituisce un comportamento discriminatorio Ogni condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica Condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque ineggiante a comportamenti discriminatori Quindi chi compie un comportamento discriminatorio, che è questa cosa qua, a che cosa va incontro? A questo Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara O nei casi più gravi con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'articolo 9, comma 1 Lettera G, nonché per il settore professionistico con l'ammenda da euro 10 mila a euro 20 mila Oltre, oltre Sì, oltre Quindi, questo è un po' diciamo lo scenario che aspetta Cerbi Dobbiamo vedere che cosa succederà Io come sempre parto da Max, perché tu essendo in collegamento magari hai più difficoltà ad entrare in discussione Tu che cosa pensi di questa situazione? Hai avuto modo di essere aggiornato sulle dichiarazioni rispettivamente dei due giocatori? Sì, sì, sì Ottimo Sì, sì, sì Allora, io credo che vada eliminata quella situazione delle due giornate di squalifica Ok Perché non c'entra niente Allora, o gli dai 10 o non glielo dai o non glielo dai o non glielo dai 10 Cioè, cosa significa quella cosa lì del comportamento antisportivo? C'è una discriminazione razziale o credi a quello che ti ha detto Juan Jesus e non credi a quello che ha detto a Cerbi O viceversa, non credi a Juan Jesus e credi ad a Cerbi Detto questo, io sono sincero, se fossi stato a Cerbi Siccome, insomma, non vengo giù dalla pianta E a me che l'avvocato gli metta in bocca la cosa che possa dire Ti faccio nero Perché questo ti faccio nero lo scrivono i fumetti di Topolino Ti faccio nero Quando gamba di legno vedeva Topolino diceva ti faccio nero Dai ragazzi, non scherziamo In campo non ho mai sentito uno che diceva ti faccio nero Ah, un avversario in tutti gli anni che è successo in campo A uno già di colore A uno già di colore E poi a uno di colore E poi a uno di colore Dai Tramporogli ha detto andiamo a berci un Montenegro E ha capito male Ho visto l'ultimo film di Franco Nero Ecco Esatto Comunque ragazzi Per completezza Allora, io avrei chiesto scusa Io se fossi stato in acerbi Avrei chiesto scusa È stato Non sono un razzista Che è quello che è successo subito dopo la partita poi Max E io questo lo credo No, ho capito Però subito dopo la partita Lui ha chiesto scusa di cosa Se non hai fatto niente Non chiedi scusa di niente Eh, ma è questo il paradosso Eh, eh, eh È questo che lui ha chiesto scusa Di qualcosa che poi ha rilegato di aver fatto Allora Io ribadisco Io ribadisco Io Se fossi stato in acerbi Avrei chiesto scusa A chi di dovere E dire Sì, ho sbagliato Ammettendo quello che hai detto Non andando a cercare Eh, scuse o scorciatoie Sì, ho sbagliato Ho detto quella cosa Mi è venuta fuori Mi è scappato Non sono un razzista Mi è scappato Mi è scappato In un momento di adrenalina Di tensione Per la partita Di nervosismo Non l'ho fatto apposto Non era mia intenzione Scusatemi tutti Ho sbagliato Sì Ma, eh Secondo me È stato consigliato male E non so se l'ha deciso lui Ha fatto una brutta figura Punto E sta continuando a perseverare Nella brutta figura Secondo me Sì, appassimo Perché io Quanchiesus Che si sveglia E dice Tutta questa roba Eh, così Tanto per andare Come? Andare contro acerbi Per quale motivo? Non c'è un motivo Perché io Anche io Sì, tu dici che si è sentito risentito Perché lui ha negato acerbi Probabilmente Ma certo Lui poi ha detto No, adesso 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 non mi faccio neanche Prendere pericolo Perché Sì, ma sai cos'è Massimo Acerbi Quando ha capito Che stava per rischiare La squalifica Allora ha ritratato Nel momento in cui rischiava La squalifica La non convocazione Dalla nazionale La multa Gli europei La multa Adesso non mi ricordo Forse era addirittura Arrivata sui 70 mila euro Qualcosa del genere Le dieci giornate Le dieci giornate di squalifica Casualmente la versione è cambiata Prima che potessero essere prese Ma perché prima cosa ha detto Di diverso Niente Prima che su scusa Prima che su scusa Ha finito lì Perciò non ha detto una versione Poi l'ha cambiata No, però Prima che su scusa Più di una volta E questo Massimo lo sa Che in campo Dice a uno Figlio di Poi dopo Nell'adrenalina Come dicevi te Questo si gira Ed è successo Ti dice Ma cosa stai dicendo E tu dici No, scusa Scusa Ripeto Non sto facendo l'avvocato Di nessuno E infatti inizialmente Per darmi un forte La tua dichiarazione Io però volevo capire Perché non ho sentito Ho sentito una versione Sentendo adesso Marcello Pensavo che avesse dato Una versione E poi è cambiata Invece lui ha chiesto scusa Giusto? E poi Ma comunque Ti posso garantire Che il giocatore Sapeva già Non lui Chiunque Sa già Che se Dovesse succedere Una cosa del genere Sa già Cosa vanno incontro Sia per la nazione Sì A Cervi non lo so No ma nel senso Come non lo so No però i provvedimenti L'hanno arrivati tutti insieme Scusa Per l'intervista O dichiarazione intelligente Non è intelligente? Francesco Cervi Federico Federico Fratello Scusami Francesco Non è intelligente? Ma le dichiarazioni Che ho fatto sui giornali A Cervi Non ha mai Sono meglio Il punto di vista Non ha mai brillato Per intelligenza Io adesso Quello che sta dicendo Mi assumo la responsabilità Io non lo so Ho capito Però Secondo te A Cervi non sa Cosa va in conto Sì però Giacomo Guarda che la versione Giacomo Però la versione L'ha cambiata seriamente In corso d'opera Prima Quando sono arrivate Questi ipotetici provvedimenti Lui a quel punto Ha detto Ho detto Ti faccio nero Non ho detto Sare Per toni Ma i provvedimenti Nel momento in cui Cioè nel senso È lì il momento In cui ti fa capire Che in effetti Deve mascherare qualcosa Io dopo la partita So già a cosa posso andare incontro Se eventualmente In questo caso Juan Jesus Mi accusa Io mi devo difendere Se perdo Se perdo So già Quello che voglio dire Io non so poi voi Cosa pensate Perché lui pensa in un altro modo Io no Io so già Che se vado incontro A cosa del genere A cosa pago dopo Eventualmente Se perdo la causa In questo caso Sì ma io ho visto il video Di Dazon Che ti fa vedere Come si parlano Juan Jesus Marcello Io volevo parlare Di regolamento E non mi sembrava Che a Cerbi A Cerbi Negasse davanti a Juan Jesus Gian Jesus insisteva Continuava a dire No Però questa cosa E a un certo punto Si vede chiaramente A Cerbi Che indica Turame Gli dici Ma chiedi a lui Come dire Ma glielo dico anche a lui A volte a Dabiano Sì ma c'è però Credimi Marcello sai anche tu Che noi da fuori Possiamo immaginare Quello che vogliamo Sì ma lo ripeto Per me non è razzista Sì Non è razzista Ragazzi io voglio fare L'avvocato del suo Io non sono l'avvocato Allora Scusa di Max Faccio concludere Jack Ci fermiamo Riparto da te No io volevo far solo Delle ipotesi Ripeto Ribadisco Non voglio fare l'avvocato Ma nemmeno io Ma nemmeno io Non è che io voglio condannare Tutto quello che vuoi Proprio per il motivo Per cui tu hai detto Che sapeva già La situazione Come sarebbe andata a finire Le giornate squalifiche Ma cavolo Ma di un'altra roba Tu sai benissimo Che dicendo questa roba Ma digli Digli quello che hai detto Tu prima Esatto Eh ma non c'è Non c'è Figlio di stronzo Digli una parolaccia Ma non c'è quella roba Massimo Però Si si E tu non cagiamo dai Faccio una domanda veloce a Massimo Ma gli rispondi dopo la pubblicità No Su quello che ha detto Massimo Va bene Perché Massimo dice Invece di dire Quello che ha detto a Cervi Io avrei detto un'altra cosa Va benissimo Però Massimo Secondo te Secondo te Che noi abbiamo avuto la fortuna Di farlo Perciò All'inizio dell'anno Ci dicevano tutto quello che Non potevi dire Sbagliavamo Cosa pagavamo Secondo te i giocatori Non sono quelli di Serie A Ma anche di B e di C Ma lo sanno Non sanno Ma sanno tutti Ma certo ragazzi Ma c'è Ma sanno che lo sanno Sì sì ma Ma ci sta Ma ci sta che lo sanno Però io proprio perché lo so Evito di dirgli quella roba lì Sì Ma poi in campo Di dirgli un'altra roba Io lo so Ripeto Io non so cosa gli ha detto Ma la cosa migliore Ma la cosa migliore L'ha detta Max Quando dice Giacomo Giacomo Te la faccio a te la domanda Sono sincero Io sono sincero Io in tutti gli anni Che ho giocato a calcio E in parte Gli ho giocati con te Io te lo giuro E noi abbiamo giocato anche Insieme e contro Giocatori di colore Ok Ma a me non è mai venuta in mente Neanche nell'anticamera del cervello Di dire una roba del genere Massimo Ma ti dico Massimo No E io non l'ho mai neanche sentita È vero E non l'ho mai neanche sentita Però posso dirti Ragazzi ci fermiamo Ti dico Posso dirti una cosa velocissima Massimo Massimo Che anche tu hai giocato in Meridione Io quando giocavo a Reggio Calabria E andavo in giro a giocare Chiaramente fuori Reggio Ma mi davano Eravamo dei terroni Terrone Ma è certo Ma a me mi ha dato dei terroni Anche quando giocavo a Torino Anche Massimo Non posso dire il nome Massimo Perché era Eravamo in Serie A Giocatore della squadra avversaria Mi si gira a un certo punto Mi ha dato del terroni Tutta la partita E io non capivo Mi sta prendendo in giro Ma non per qualcosa Perché io sono di crema E tu non potevi dirgli Sono di crema No Ma sai perché ti ho raccontato questo? Per farti capire che Per lui Per lui erano offesa A me mi faceva solo ridere Quando mi diceva così Certo Hai capito? Ragazzi ci fermiamo Abbiamo ancora un altro blocco Per dedicarci Appunto a questo caso Anche perché Vi devo ancora leggere Che cosa è stato degretato Dalla giustizia sportiva Cioè proprio L'iter Ossia come si muovono A livello giudiziario In questi casi E fra poco pubblicità Bravo Eccomi eccomi Stavo già terrorizzando Il nostro povero Jack Dicendo ma Jack ma ti ricordi Adesso riparto da te Ti ricordi che ti hai detto Riparto da te No ma Vitti In realtà io ho completato Ok scusa Chiedo bene Ogni tanto a me piace condividere Anche questa dietrologia Che avviene nel nostro fuorionda Perché voi Fate parte della nostra grande famiglia Che è quella di Diretta Studio Molto bene Dopo questa sviolinata Andiamo avanti Perché vi voglio fare leggere La grafica Inerente Alla giustizia sportiva Ossia qual è l'iter Che in questi casi La giustizia sportiva Va ad applicare Facciamo chiarezza Una volta per tutte Attenzione Ve la leggo Poi ve la spiego Perché non è semplicissima Si capisce mai niente Si capisce mai niente Ci sono dei cavilli Ci sono dei cavilli Sì Allora Nei procedimenti Di giustizia sportiva Il valore probatorio Sufficiente Per appurare La realizzazione Di un illecito Disciplinare Si deve attestare A un livello Superiore Alla semplice Valutazione Di probabilità Ma inferiore All'esclusione Di ogni ragionevole Dubbio Semmeni verbali Per fare i carabinieri Quando vai in questura A fare le denunci Carabinieri Scrivono così Ma io giustamente Quest'oggi Ho avuto un maestro D'eccezione Francesco Bonfanti Che per filo e per segno Mi ha spiegato E così io adesso Bonfanti Sì sì Assolutamente Anzi Grazie Franci Che sei in regia Con la nostra super squadra Le netflix Allora C'è una differenza Molto semplice Che adesso vi spiego Tra la giustizia ordinaria E la giustizia sportiva Per la giustizia ordinaria Affinché L'imputato Venga considerato Colpevole Bisogna Che la giustizia Sia assolutamente Certa Al 100% Quindi in una scala Da 1 a 10 Deve essere Per forza 10 La certezza Del fatto Che il colpevole Sia effettivamente Colpevole L'indagato Sia colpevole Abbia Le prove La giustizia sportiva Basta 1 Sì Praticamente sì Nella giustizia sportiva Invece Questo livello Non comporta Il 100% Vai Max L'onere della prova Spetta di solito All'accusa Nella giustizia ordinaria Qui spetta Alla difesa Cioè Sei tu che devi provare Non aver commesso il fatto Se sei convincente Mentre la giustizia ordinaria Mentre la giustizia ordinaria È l'accusa che deve provare Che tu hai commesso il fatto Quindi tu praticamente Sei già mezzo condannato Esatto In pratica Perché devi essere super convincente Ma l'abbiamo visto Esatto Perché se no Il grado è minore Devi essere tu però L'accusato Non deve essere l'accusa Deve essere l'accusato L'onere della prova È il carico della difesa Ma ti danno Dei tempi ristrettissimi Se no Non si apre neanche il procedimento No no Ma tu il procedimento Tu hai un quarto d'ora Per spiegare Un quarto d'ora 20 minuti Non è che hai poi Una giornata Sì 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 E così ti fregano Quindi Poi a conti fatti Cosa vuol dire Vuol dire che il fatto Che Acerbi Sia condannato È più probabile Tendenzialmente Max Per far chiarezza Io non lo so Se sia Non lo so Non lo so Io continuo a sostenere Che non è stato Molto furbo Io non voglio Dire che Che è stato Poco intelligente Magari Ha avuto un funzionamento Errato Io non lo conosco Io dico solo Che Poteva dire A questo ragazzo Qualsiasi cosa Ma non quella Eh sì Se proprio Proprio per i motivi Per cui ha detto Prima Giacomo Sai cosa va incontro Se dici Una cazzata del genere Io Ci credo Che lui Non è un razzista Ci credo Che lui È molto sensibile Anche a questi A questo tipo di problemi Però allora Probabilmente Non ti viene Neanche in mente Di dire Una stupidata Del genere Io posso anche capire Che sei stato Ti si è chiusa la vena Come si dice Però Ti chiude la vena Digli una parolaccia Insulta La sua famiglia Che ne so io Ma non dire quella roba No ma la stupidata La dice anche Nel giorno Della giornata antirazzismo Se quella era La giornata antirazzismo Con tutti La fascetta Se la detta 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 Però la cosa brutta La cosa che fa La cosa che fa Però scusa Scusate Ma se la detta Vuol dire che Pensi che Juan Jesus È andato a inventarsi Tutti Io non ci credo Sì però scusate Juan Jesus Non ha replicato nulla Dopo che Acerbi Ha detto No io ho detto Appunto La frase è cambiata Io ti faccio nero Non c'è stata Non c'è stata Ha replicato Quando si è rimangiato Le scuse Esatto Nulla Ma tu puoi chiedere scusa Per qualcosa Che non hai commesso E questo è il senso E quello che diceva prima Se no non chiedi scusa Mari E io allora vi dico Può avere offeso Anche in un altro modo E io ti chiedo scusa È successo È successo Perché nel calcio Non è che offendi solo Se dici Quello Che è stato accusato Sì magari aggiungi Un appellativo Nel calcio Puoi dire qualsiasi L'ho detto prima Le dici di tutti i colori È nero Però Il nero è venuto fuori Eh sì Se no non viene fuori Tutto sto casino No ma perché Noi adesso Stiamo cercando Massimo Secondo me Noi adesso Ognuno giustamente Con il suo pensiero Sta cercando di capire Però io ti dico la verità Ripeto Io non faccio Né l'avvocato Né niente Però io In queste cose Finché non ci sarà La sentenza Che diranno È stato così Posso immaginare Possiamo discutere Vero Sì perché Poteva dire così Poteva dire cosà Però io sono sempre Un po' restio A dare dei giudizi Adesso Diciamo Però a Cervi Allora io non dico Come lui che dice Non mi permetterei mai Però Alcune volte Alcune volte Frequente Ci fate queste scivolate Ricordatevi in Inter Roma Quando fa il gestaccio Alla curva Cioè anche quelle cose lì Non le devi fare Anche se c'è l'adrenalina Anche se ti fiori Anche se ti fiori Prima di interiur Ma tocca a vero In quella maniera così evidente Ma quanti le vediamo Le vedevamo prima Le vedi adesso Ma il mondo è cambiato Adesso la sensibilità Dell'opinione pubblica È diversa Ai tempi vostri In cui soccavate voi Si diceva di tutto Si facevano dei falli Che adesso Non sono più consentiti E' vero Era un altro calcio Era un'altra sensibilità Ti saresti Ma è spettabile Nel 2024 Che l'allenatore Entra in capo D'un attestato Il giocatore Non saresti mai aspettabile Ma hai fatto E' spettabile Ma hai tempi nere Ho capito Ma succede Può succedere Ma hai tempi nere C'erano i film Quante testate tiri E te credo Scusa Che viene esonerato Un allenatore Che dà una testata A un altro giocatore A me mi sembra Non so No ma non l'ho mai vista Scusa Ma sto dicendo Ho fatto esempio adesso Però succede di tutto Ma infatti ha pagato Si ma ha fatto Può succedere di tutto E beh ha pagato Perché è stato visto E se ci sono delle regole E sanno con certezza Che è successo Ma ragazzi Lo stai scacciando Giacomo Quando l'opinione pubblica Si dice che sta cambiando Diciamo E il numero di telecamere In questo contribuisce tanto Ma la sensibilità Ma anche la sensibilità Quello che ha fatto anche Materazia Cirillo Una volta che ha spaccato il labbro Cioè da noi Da noi Quando giocavi Tu e Massimo Su altri livelli Ma io ero in Serie C1 Girone B Qua se ne vedevi Non dico all'ordine del giorno Ma ne vedevi tanti Quello che succede Sì ma Ma oggi Per una visibilità Di un certo tipo Non te lo puoi permettere Ma perdonami Noi stiamo parlando Di episodi visibili Qua si sta parlando Di un'ipotesi Perché Non è stato Acerbi Che da una gomitata Tutte le televisioni Lo riprendono È una cosa È un labiale Non c'è neanche da discutere Ho capito Però Io Stavo rispondendo a te Marcello Per dirti È vero Gli episodi che hai detto a te Succedono Sono successi Succederanno ancora Perché ci sta E succede Non puoi dire No io non lo faccio Perché al momento che dici Non lo faccio Il giorno dopo Parlo di me Lo faccio Perché Non dovresti farlo Ma anche in questo caso È successo Sì è vero È un'ipotesi Di quello che ha detto Però è successo Effettivamente qualcosa Perché altrimenti Acerbi che motivo ha Di replicare Due volte le scuse Però poi Per cambiare versione Ma quello sono d'accordo Ha seguito Degli ipotetici provvedimenti Senza una replica Da parte di Gonesus Se uno ti accusa Nel momento in cui Sei in campo Che succede Un dibattito Una discussione Chiamala come vuoi E vuol dire Che qualcosa L'altro ha sentito Certo Però io so Cosa ha sentito l'altro Però Sì magari La tua teoria è Può essere Che Acerbi Si sia scusato Per Oltre al Eventuale Ti faccio nero Magari sei un figlio Di 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 Ma è quello che ha detto prima Però Vittoria Con questo È un pensiero Che posso avere No no Giustamente Ma chiedi a Massimo Sarà successo anche lui È successo anche a me Quando giocavavo A certo punto Anche con Tuo fratello Nel momento Dell'adrenalina Di dirci delle parole Ma allora non c'erano nemmeno le telecamere Sì ma poi gli chiedevi scusa C'era la telecamera in tribuna Fissa Massimo Massimo non ha mai chiesto scusa a me Perché Invece tu eri uno che si scusava Mi entrava E non aveva neanche rispetto dei vecchi Perché lui era giovane Io sono un po' più vecchi Massimo non ha mai chiesto scusa Sì e lui e Stinky Giacomo in qualche senso Che chiedeva scusa Quando rompeva la carina Io sto dicendo Pensa Massimo Giocava con me Mi entrava E non mi chiedeva scusa Ed era più giovane Che siano cambiati i tempi Io ti ricordo Io ti ricordo Che ai tempi nostri No? Cioè si andava al cinema Se andava a vedere i film Di Boldi e De Sica Quante parole Caccia Ragazzi io vorrei capire con voi Al di là di quelle tre ipotesi Che abbiamo condiviso prima Anche che cosa possa fare l'Inter Perché l'Inter Ricordiamoci Che porta avanti la campagna B Scritto B Di Bologna U U Doppia U Udine Udine Ossia Brothers Universally United Quindi Fratelli Universalmente Uniti Ossia E' una società Che tiene molto a cuore Il tema Del lottare Contro il razzismo E quindi La domanda Che tanti tifosi Nerazzurri Non solo si pongono è Ma a Cerbi Al di là Delle pene Appunto Che abbiamo letto Poc'anzi Quindi le dieci giornate La pene economica La multa Eccetera Ma non è che può anche rischiare Il licenziamento Dall'internazionale Jack Per te? Non lo so Magari lo vengono Magari lo vengono Non credo Non credo La società può licenziarlo Della policy internazionale Adesso Adesso Ti devo dire la verità A questo non ti saprei rispondere Cioè la domanda è Per voi Sarebbe troppo Un licenziamento Qualora lui venisse Ma qua Se vuoi un mio pensiero Dipende da cosa Come ragiona la società Dichiarato colpevole Dipende Dalla società Che tipo di ragionamento fa Su queste cose Allora se noi stiamo parlando di razzismo vero E ripeto E ribadisco Lo dico soprattutto Agli interisti che guardano Perché sicuramente Pensano che se tu parli Dici una cosa Contra Cervi Pensi che tu sia razzista Assolutamente Siamo super parte Non lo penso minimamente Che Cervi sia razzista Non lo penso minimamente È un superficiale Ma non un razzista Io penso Invece Mi sono dimenticato No Era partire così bene Marcello Sì perché Vito Vito Quando parla Ecco sì 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 Quando parla dell'Inter Lui si dimentica sempre dei pensi No perché ho fatto No si emoziona Ho fatto il preambolo Hai fatto il preambolo Per i tifosi interisti E mi sono perso La società può licenziarlo E se sì Cioè o meglio La società può licenziarlo Senti fai parlare prima gli altri Che io poi mi rinforziare Senta che devi riformulare la frase No stava dicendo che A Cervi Secondo te Marcello Stava dicendo che A Cervi Non è sicuramente un razzista Ma volevo dire una cosa E adesso Giusto Parlate voi che io adesso No vabbè Però se questa cosa Mariana per te Scusami Jack Sì sì no no Fai con Mariana Mariana per te Se l'Inter mai Visto che ha il potere di farlo Decidesse addirittura Di licenziare il giocatore Sarebbe troppo drastica Ovviamente Qualora Cervi Sia colpevole Allora se la basiamo Dal punto di vista Di quello che hai detto tu Quindi che loro sostengono In maniera ancora più viva E più vicina Questa lotta al razzismo Allora se uno Ti direi di sì Sinceramente però Da canto mio Bisogna un attimino valutare Quello che decreterà La giustizia sportiva Perché tanto Alla fine dei conti L'ha detto ma non c'era l'intenzione Ecco Marcello Super Vai Cioè nel senso che Io non ritengo Ripeto il preambolo Rimane valido Se io opero Un razzista vero In squadra Io avessi Appurarsi Un razzista vero Sì veramente lo licenzi Cioè io un razzista Uno da Ku Klux Klan Uno che odia i neri Io Anche perché lo farebbe Ma anche perché lo farebbe Magari proprio con i compagni Stessi di squadra Un razzista vero Io non lo vorrei In squadra Non è questo il caso Marco Ma non è il caso di Acerbi Perché non lo è Secondo me è colore Anche il risvolto internazionale A cui vuoi dare peso la cosa Perché Perché io ho vissuto un caso di razzismo Per quanto riguarda il mio circolo Cioè di accuse di razzismo Ah sì Sui social Che poi è stato assolutamente inventato E creato E ho ricevuto chiamate dagli Stati Uniti Addirittura per questo Quindi se tu vuoi dare peso Tu società Alla fatto che sei parte di un circuito Che fa dell'antirazzismo Nella propria politica interna Allora ci può stare Quindi il riscontro internazionale Che ha questa vicenda Allora ci può stare Che poi sia giusto Lo ritengo di no Perché comunque Non credo assolutamente Che per quanto prima Vi sia l'intenzione Ho detto Che sicuramente È superficiale Probabilmente anche poco intelligente Nel farlo Non è razzista Cioè è un insulto razzista Non esagererei È un insulto razzista Bisogna fare liquidare l'acerbico Cioè Ha fatto una cretinata Doveva ammetterlo Come diceva prima Doveva continuare su quella linea Ho sbagliato E basta Devi andare a valutare Se nel regolamento Tu puoi farlo Parlo del licenziamento Non so se lo puoi fare Questo non lo so nemmeno io Se c'è una causa Puoi farlo L'abbiamo studiato oggi In relazione Può Ai poteri Abbiamo studiato Avete fatto un brainstorm Sì sì Io e Francesco Bonfanti Oggi Due ore a scaletta Importante Concludo con Massimo Massimo Sempre qualora Acerbi sia colpevole E l'Inter Dovesse licenziarlo Troppo? Ma è una scelta Che spetta la società Perché avete Avete fatto una ricerca giusta Le società Per questo tipo Di situazione Ha la facoltà Di recedere Del contratto In essere Quindi anche se lui Dovesse avere un contratto Che gli scade Nel 2025 Per esempio Lui potrebbe essere Diciamo così Come dite voi Si può rescindere il contratto Ecco Per una situazione del genere Poi è una società È una È una decisione Questa che spetta La società stessa E quindi Lì va valutata A me Mi sembrerebbe Insomma Un po' troppo Eccessivo Esagerato Però ribadisco Però ribadisco O Non gli dai niente Perché Trovi che Non ci siano Le prove Sufficienti Per poterlo condannare O se lo devi condannare Devi applicare il regolamento Che è un regolamento Non è che Quello che abbiamo visto prima Uno si sta inventando Esatto Quello è il regolamento Che per Frasi discriminatorie Poi Poi lì Posso andare All'interno Della frase discriminatoria Perché allora dico Ma sembra una stupidata Però anch'io Quando giocavo a Bari E andavo a giocare A Milano A Verona A Bergamo Da fuori Mi chiamavano Terrone E anche qualche Avversario Mi chiamava Terrone Pur essendo anch'io Di origine Cremonese Quindi Si vede che a Cremona Forse si regola Ma tutti l'intorno Vieni l'intorno Mi hanno selezionato Io Tendo a difendere Io tendo a difendere Parte di papà Pizzighettone Parte di mamma Soresina Quindi Ecco Sresina È a tre chilometri Da Cremon Da Cremon Ma deve essere Una sola coincidenza Oh ragazzi Soresina Poi stamparà Senza far pubblicità Ma Soresina C'è tanta roba Gente che sta bene Dici No No Se la facciamo Ah scusami Scusami Ci sono arrivati A te Va bene ragazzi Allora Ci fermiamo L'energia Pubblicità Attenzione Perché Gravina in tutto questo Perché Invece di andare in giro Solo con la nazionale Per gli Stati Uniti Ma Un commento dal paladino Dell'antirazzismo Come gravina Presidente Dica qualcosa Però lascia Un suo punto di vista Appello di Chirico Presidente Dica qualcosa Marcello Marcello Giusto che l'Alegranzismo Faccia il suo punto Allora ragazzi Visto che abbiamo parlato Di Acerbi Che gioca nell'Inter Visto che In apertura di puntata Abbiamo parlato Dei giovani Dalla nostra nazionale Indovinate Uniti i puntini Inter e giovani Uguale Marotta Marotta Dai Rebus Hai visto Rebus Settimana enigmistica Per Mariana Montagli Ecco ci siamo Tornati insieme Effettivamente Mariana Ha indovinato Il mio giochino E dei Unisci i puntini No è che ci alleniamo Durante La settimana fa Io vi giuro Ragazzi Io vi giuro Io non avrei voluto dirlo Ma se Marcello Mi dice che cosa ha vinto Cioè proprio Me la servi Con un assist Per questo Cosa faccio Io mi esimo Dell'andare a gol No Ha vinto Il soprannome spaziale Ah però Che grande Che grande C'è guadagnato Che è riuscito Ad essere un po' Rianda Con Montpanti Sid Questa non la spieghiamo Che meglio Molto carina Però Sid In maniera affettiva Che sarebbe Il personaggio Del reglaciale Vabbè Il bradipo Jack non ci può andare così male Jack tu eri preoccupato Che noi possiamo Non da fino a mezzanotte Ma come vedi Noi ci inventiamo La qualunque State parlando Io guardavo Diabolic No Tex Willer Diabolic No 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 Diabolic Zagor Zagor Secondi Hilary Tu l'hai vista L'era glaciale Max Bramba Sì Mi sembra di sì Un po' di anni fa Un cartone animato Un po' di anni fa La facevo vedere A mia figlia Ecco Anche in grafica Proprio le parole Di Marotta Allora Io le chiamo così Ve le leggo Approfondiamo un attimo La situazione Fra due anni Quando terminerà Il mio contratto Con l'Inter Mi occuperò Solo dei giovani Il settore giovanile È il patrimonio Più grande Di una società Soprattutto dal punto Di vista umano Sono sempre più convinto Che far pagare Lo sport ai giovani Sia sbagliato Dovrebbe essere gratuito Perché così Si riuscirebbe A coinvolgere Anche le famiglie Povere Quelle in cui Si nascondono i campioni Come accadeva una volta Assolutamente Ora Da queste dichiarazioni Marco riparto da te Visto no Che poi oltretutto Forse ti senti anche preso in causa Dal momento che alleni Anche i giovani No Ci sono tantissime Riflessioni da fare Una appunto L'investire sui giovani Due Io vorrei capire Anzi mi dispiace Che forse Non ci sia Il nostro amico Borrelli Per capire Se lui è preoccupato Guarda che se lo chiami Arriva Se lo chiami rispondi Sei preoccupato Dice Michele Borrelli Ma tu sei preoccupato Perché finisce la marotta lì In questo caso No Non per quello Ma tra due anni Non avrai Perché c'è Marcello Non ho approfittato Un passo per volta Allora Marco Tu mi dicevi Assolutamente ragione Assolutamente ragione Sul progetto giovane Nel senso Prima lamentavamo Il fatto che Il settore giovanile Oggi È sicuramente Sceso di livello La produzione di talenti Probabilmente anche Il metodo di insegnamento Lui c'entra Un problema Assolutamente vero Oggi Un ragazzo Paga 400-500 euro Diretta Per essere allenato Dall'idraulico Al campo Perché questa è la verità Nelle società Direttantisiche Tale cosa accade Per quello Un po' più di alto di livello Ci vogliono rette A 700-800 euro Ok E il calcio Che spesso Di chi ha fame Ok Non ha Diciamo La possibilità Di attingere Un bacino di utenza Più ampio Rispetto Nel modello tedesco Ok Le società Direttantisiche Così Non esistono Esistono Dei campionati scolastici Una forma di Statalizzazione Scusa Di federazione Statale Ovvero che Ci sono dei centri Di formazione Come È uno Scioglilingue È uno C'è dei centri Di formazione Dove I migliori talenti Sono visionati Da Tecnici Dei centri Federali Che poi Dopo possono Mandarli A Bayer Monaco Di qua Di là Di sopra Di sopra Quindi Diciamo Il calcio Deve essere aperto A tutti Ha assolutamente Ragione Marotta Da questo punto Di vista Perché Non può essere Diventato Uno sport Di elite Perché Se no Si torna Ad avere Un bacino di utenza Troppo limitato Ecco Poi Di fronte a questo Vorrebbe andare Sì a limitare L'espressione Di alcune società Direttantistiche Questo è vero Ma darebbe la possibilità Sia al sistema scolastico Sia al sistema federale Di avere talenti In maggior numero Dall'altro canto Invece Penso che se Marotta Vada via dall'Inter Siano felici Tutte le squadre Abversarie Perché È indiscutibile Che Marotta Al di là della battuta C'è Jack Che squadra a testa Al di là della battuta Marotta Ha fatto un grandissimo Lavoro all'Inter Ma e Giacomo Grazie Marco Giacomo Perché Non ti trovi d'accordo Cioè secondo te No L'Inter Non perderà Un punto Cardine Un pilastro Cardine Che c'è stato Scottendo la testa Non per Marotta Ah Che perderà un punto Un pilastro Sì Quello sicuro Perché comunque Lui l'ha dimostrato Non solo l'Inter Ha dimostrato Che il suo lavoro Lo sa fare La stagare Caspita Fa la differenza Io scottevo la testa Perché È la cervicale Ho avuto No ma io ce l'ho La cervicale Da una vita Infatti ho Come questa cosa Come questa cosa Che hai La cervicale E tu E hanno tamponato me Infatti io Ho l'occhi Incorporato Salutiamo tutte le cose Farmaceutiche Per farla in breve Scottevo la testa Perché Per fortuna Ho avuto 10 anni Ho allenato Settore del Torino Settore giovanile Dai 12 anni Alla primavera Come l'hai trovato? Eccezionale Però parlo Dal Dal 2000 99-2000 In poi Questi erano gli anni Ho avuto la fortuna Poi di avere Dei giocatori Che sono arrivati In nazionale Ho avuto la fortuna Di allenare Veramente Tutte le categorie Perciò Ho capito Che È un settore Come dicevano I nostri Grandi allenatori Dell'epoca Miei Di Massimo Ci sono due cose Fondamentali Una Lui parlava Di idraulici Però io ti posso garantire Che gente E ho girato molto Perché andavo a vedere Questi dieci anni Di settore giovanile Io oltre ad allenare La squadra Andavo in giro Per Torino Nell'Inter A vedere Come allenavano Perché c'è sempre Da imparare Però il problema È questo Mancano due cose Gli oratori Che lì Dove si giocava a calcio A me viene da ridere Quando Adesso se dico questo Massimo Secondo me Capisce cosa voglio dire Guarda Siete inquadrati doppi Quindi vediamo Quando si parla Di isocinetica A me viene da ridere Perché adesso Isocinetica Adesso inventano Tutti ste paroloni Ma l'isocinetica Era quando davamo L'oratorio Che giocavamo 20 contro 20 Con una maglia Diversa dall'altra Perciò dovevi Individuare Chi era il tuo compagno Adesso Fanno Vabbè Detto questo Secondo me Mancano gli oratori Non ci sono più Due Lui parlava Parlo di Marco Parlava di Allenatori Che non erano in grado Io ti dico che Ho avuto la fortuna Di fare un corso Di 4 anni A Coverciano Perciò avevo Degli istruttori Fantastici E mi hanno fatto capire E poi dopo Pensando Ecco perché ho chiamato In causa Massimo Pensando a quelli Che abbiamo avuto noi Tu devi avere Un allenatore adatto Per il settore giovanile E ti spiego di più Non adatto Dali 12 anni Come ho fatto io Ai 18 Della primavera No Devi avere L'allenatore bravo In quelli di 12 anni Che fanno gli esordienti Devi avere quello bravo Che fanno i giovanissimi A 15 Devi avere Quello bravo In una categoria Della primavera Perciò Tutto questo Non esiste Una volta Non so se Massimo Si ricorderà Noi a Torino Avevamo Dopo mi è venuto in mente Quando ero a Torino Torino era già avanti All'epoca Per ogni categoria C'erano i Marchetti Naretto Dalla Riva E via dicendo Non so se Massimo Si ricorda Ma si ricorda sicuramente Certo Non mi ricordo Detto questo Sembra una cosa facile Ma allenare il settore giovanile È la cosa più difficile In assoluto E poi Aggiungo Che E avendo avuto L'esperienza Sia di Coverciano Dove c'erano I maestri In assoluto E a Torino Che mi hanno dato La possibilità di andare Ogni categoria Deve avere l'abilità Per quella categoria Grazie E non è facile Massimo Non so se Si è d'accordo Sul discorso Dell'allenatore Parlo dei settori giovanili Max No no Sono d'accordo E aggiungo Che a mio avviso Devi riconoscere Non tanto l'allenatore Quanto l'insegnante Tu devi avere Un insegnante Uno che ti insegna A giocare calcio E ti insegna Poi anche qualcosa Della vita Perché io Sono sincero Io ho apprezzato tantissimo La scuola del Toro Fatta da Gianni Bui Da Sergio Batta Perché non mi hanno Solo insegnato Dal punto di vista Puramente Strettamente Del calcio Ma ho preso Tantissimi insegnamenti Anche puramente Di vita Di vita vissuta Perché a 16 anni Giacomo lo sa Eravamo in un pensionato Dove non esistevano I telefonini C'era il telefono A gettoni Dove eri fuori di casa Ed eri giovanissimo E quindi ti dovevi arrangiare E imparare Velocemente A come A come migliorare E a come gestirti La tua giornata Ci hanno dato delle regole Perché io ricordo Andavo a scuola Ci hanno dato delle regole Pazzesche Il rispetto delle regole Il rispetto delle regole Nel spogliattolio Il rispetto delle regole Del pensionato Il rispetto degli orari Di rientrata Nel pensionato Io andavo a scuola La mattina Per me è stato Un insegnamento Bellissimo Che mi sono portato Poi per tutta la vita E quegli anni Che ho vissuto lì Sono stati Di un'esperienza Incredibile E io credo Che Chi fa L'allenatore Nel settore giovanile Vuol dire Che è Bravo A insegnare Non è solo Parlare Voglio andare Anche da Marcella Mariano Velocissimo Il discorso Il discorso Il discorso è che Quando tu hai La gestione Di questi ragazzi Devi avere La massima attenzione E Non devi parlare Io Come ho detto prima Giravo molto E sentivo Gli allenatori Dei bambini Perché sono bambini 12 anni 13 anni Domenica giochiamo Il 4-4-2 Ecco Queste sono cose O altrimenti Marchiamo uomo Marchiamo zona La cosa peggiore Che può fare uno Nel settore giovanile È parlare Con questi ragazzi Da inculcare Dello schema O di come Tatticamente difendi Perciò Come ha detto Massimo Deve essere Un istruttore Perciò Devi preparare Il ragazzo Di 12 anni Per fare il salto Nella categoria Superiore Perciò Invece la gente Pensa che prendo I ragazzini È più facile Non è così Sì Non sono malleabili Marco Vedevo il tuo sguardo No ma diciamo Che spesso Questa condizione Che si è venuta a perdere Dell'allenatore di categoria Ovvero comunque bravo Come dice Massimo A insegnare calcio Si è venuta a perdere Quando si dà La possibilità A questi allenatori Di fare carriera Cioè Chi sta allenando In quella categoria Tende A utilizzare Quella categoria Non per migliorare Il giocatore In se stesso Ma come mezzo Per fare carriera Quindi scarica Anche sui giocatori Stessi Una serie di ansie Ma perché viene giudicato Anche il sistema Di promozioni Retrocessioni Sbaglia che ti mette lì Sbaglia che ti mette lì Sbaglia che ti mette lì Ma anche le società Che creano delle pressioni Per raggiungere risultati Ok che poi Fanno parte del gioco Che sono una naturale conseguenza Ma anche il sistema Di retrocessioni Però ragazzi Scusate Perché abbiamo un po' perso Il fulcro di Marotta Marcello Voglio riprenderlo Con te L'Inter ha avuto La fortuna Di avere Un amministratore Delegato Incredibile Che forse è andato Anche a sopperire Alla mancanza Di una società E quindi anche Di Zang Delle volte assente Se non quasi sempre Stavo edulcorando Il concetto E quindi La società Inter La squadra I tifosi Quanto perdono Tra due anni Quando del 20-27 Come indichiarato Da Marotta Ci sarà appunto L'addio Di questa figura Vabbè Cioè Sopperiranno Prenderanno un altro Sicuramente Ausilio Non è l'ultimo Scappato di casa C'è uno bravo Quindi Certo Marotta È uno molto bravo Però io non penso Che lui Dice Mi dedicherò Al giovani Per me Lui andrà A dirigere A fare Il presidente Della federazione Questo io penso Lui è talmente bravo Anche nella politica Sportiva Calcistica Che farà quello Il ruolo Che vuole Perché è un ruolo Di prestigio Che doveva fare Occuparsi dei giovani Nella FIGICI Ti occupi anche di giovani E concludo con Marianna Tanti hanno detto Che Marotta È stato l'artefice Di molti successi Nerazzurri Tu credi che sia vera Questa cosa E se sia allora Come andrà a impattare Il suo addio Tra due anni Alla società Io credo che sia Assolutamente così Perché comunque Al braccio Serve la mente In qualche modo E lui questo ruolo L'ha sempre ricoperta In maniera egregia Io credo che Da due anni Ammesso che Sarà vero Perché comunque Il tempo insegna Che le cose cambiano Veramente In maniera veloce Le decisioni comprese In questo Ammesso che sia così Credo che l'Inter Vada a perdere Comunque una pelina Fondamentale Se non la più importante Perché come hai detto Tu bene prima È una figura Che è andata a sostituire Più volte Anche una società Una presidenza Completamente Soprattutto nell'ultimo tempo Assente E di spalla Comunque a un allenatore Come Simone Inzaghi O comunque Chi per essi Che poi alla fine dei conti È stato anche lui per primo A difenderlo Nel momento più buio In casa Inter Dell'anno scorso Ha difeso? Inizialmente no Ma quella parola Inizialmente no Però poi l'ha fatto Quindi diciamo che È ritornato sui propri passi Prendendo una considerazione Poi giusta Perché lo abbiamo visto Lo stiamo vedendo quest'anno Allora Visto che parliamo di società Ragazzi Ma quanti guai Per mister Zhang Mister inteso signore Non allenatore Allora Quanti guai Adesso che fai Recita il nostro titolo Allora Noi abbiamo Quanti guai Adesso che fai Ma è tutto studiato Non è tutto studiato Questa è la patta Pompanti La mattina che l'ha vinto Sta studiando tutte queste cose Io faccio fatica A capire però Marcello Non so te Mamma mia ragazzi Ormai la conosco E così Che dici Me la canto E me la suono da sola Ma oggi ragazzi Abbiamo capito Una puntata un po' Croccante Croccante Va bene Allora 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 Abbiamo Zhang Ah sì Abbiamo la grafica di Zhang Perché poi sembra che è sempre solo io Che mi dimentico No 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 Io stavo Siete già in te qua Che mi siete dimenticati Una Due Tre Ci sappiamo in te Perché siamo dentro Ma non mi sono dimenticata Regia ti prego Salvami Tu mandaci questa grafica Eccola qua Eccola qua ragazzi Allora Grafica del Corriere O meglio In grafica abbiamo la prima pagina Il Corriere dello Sport Che recita Zhang Salva l'Inter Banche e prestiti L'ora delle scadenze E poi forse ne abbiamo un'altra O mi ricordo Eccola 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 Appunto E' un po' più zoomata No Proprietà cennese sotto a stadio Mentre in Zaghi E' vicino alla stella Banche e prestiti Come vi dicevo L'ora delle scadenze Insomma Il Tribunale di Milano Approva la restituzione Di 320 milioni A China Construction Bank E il fondo OkaTree Nega un nuovo Finanziamento Perché questo ragazzi? Perché effettivamente Ci sono ben due Spade di Damocle Che pendono Che c'è? No niente Ci sono ben due Spade di Damocle Che stavo dicendo Pendono Sulla testa di Zhang Perché da una parte Ci sono questi 320 milioni di dollari Dovuti Appunto Per quanto riguarda La China Construction Bank Dall'altra parte Di cui si è stato condannato Dal Tribunale di Hong Kong Esatto Che però appunto Si rifanno Sulla persona di Zhang Dall'altra parte Ci sono ancora 350 milioni Da restituire A OkaTree Attenzione A maggio E sebbene Si sia parlato Per un certo Momento Dell'ipotesi Di un Riscadenziamento Del prestito Anche a interessi Superiori Ricordiamo che In questo momento L'interesse attuale Del 12% Che non è basso E avrebbero voluto Ipotizzare Un 20% Addirittura Quello ha chiesto Usura No loro gli hanno detto Fino al 16 Perché quando tu arrivi Oltre il 20% Poi diventa usura Lui ha chiesto Proprio per andare A spalmare Un attimino Il tempo A avere Maggiore Scusate la ripetizione Il tempo Per andare A rientrare Di questo debito Gli hanno detto Di no Quindi Cosa vuol dire Che questi 350 milioni Caro Jack Riparto da te Dall'interista Giustamente No Allora Dato che parli Io chiedo Allora Io chiedo Aiuto C'è niente di male Io sono giuventino Io sono interista Lei del Toro C'è lui del Milan Allora Mica mica ci si nascondiamo No no Aspetta aspetta Io ti dico due cose Uno Chiedo aiuto da casa E chiamo Borrelli Così ti metti Di nuovo Non è occupato C'è Massimo E quindi non puoi Siamo male Due Due Dato che C'è qua Più di una stasera Che è del Toro Non posso farlo Più di una Siamo in giudizio Tutte due Non ho giuranza stasera Adesso glielo dico Le dico proprio Diretta Perché di solito Lui è nello sgabuzzino Non sente A me diretta Io sono del Toro Tutta la vita Ecco Ti capi Il problema è che se l'Inter Gioca contro la Juve L'Inter gioco contro il Milan Io ti fai Inter Ma c'è motivo Ma certo Perché c'è un fratello Che ha giocato nell'Inter Non è così E tuttora Lavora lì Lavora Allora sono simpatizzato Tu hai giocato nel Toro Non è così Non credeteci Io ti fai Toro Non credeteci Adesso Per fargli dispetto Io so la storia vera Perché io conosco anche suo fratello bene Adesso per fargli dispetto Per farti un dispetto E finisci però Chiedo l'aiuto da casa Chiedo l'aiuto Chiamo Borrelli Scusa Ma per mettere Borrelli Devi togliere Massimo Ma lasciamo Massimo No ma lui lo chiama per telefono Tranquillo Con lui la voce te lo metti Vito Te lo dico velocemente Dimmi dimmi Cosa ne pensi L'altro sera eravamo qua Forse Marcello era in collegamento Che c'era Borrelli che parlava di questa situazione Di Zang Sì Sono cero Allora sì No Mi ricordo Deve prendere il pastire Da memoria Perché mi ricordo io Ero in collegamento Comunque detto questo C'è una situazione un po' particolare Ti dico Per quello che so io E quello che poi ho sentito da Borrelli Sì Stanno cercando di trovare una soluzione Che non è una cosa semplice Perché comunque le cifre sono alte E soprattutto il tempo è poco Perciò il tempo sta scadendo E diventa difficile Adesso Se io ti dovessi dire Come dovranno fare O come faranno Io non te lo so dire Perché non so che strade prenderanno No Di fatto loro hanno sempre operato Con i soldi dell'Inter Cioè Zanga Ha sempre usato i soldi A disposizione dell'Inter Per gestire l'Inter Perché è stato abile Marotta Perché comunque con quello che aveva Riuscito A fare comunque la scuola Che sta seguendo Lo scudetto Però il problema è un altro Quando tutti qua Anche quando parliamo del Milan Che si dice La proprietà dice A noi siamo estranei A quello che sta succedendo Ma non si può dire una cosa del genere Così come non si può dire adesso di Zanga È vero che Marotta Ausilio Antonello Non c'entrano niente È una faccenda personale Questa che sta perdendo Le cause Con i creditori Zanga È una cosa personale Ma il problema è che Il loro padrone È Steven Zhang Quello che gli paga Gli stipendi Quello che gli dà Le linee di gestione Quello che comanda Lì dentro Perché Marotta Comunque comanda Ma di fatto Una telefonata Ogni tanto A quello lì Anche con l'intelligenza artificiale Che la deve fare Avete visto l'ultima volta Come è comparso? Con l'ologramma Che allora Che la deve fare Deve sentire Perché chi comanda È lui Allora Non è che è proprio esente Del tutto l'interno Quello è il tuo proprietario Così come Quando parliamo del Milan Che loro dicono Siamo estranei Sì i dipendenti del Milan Sono estranei Pioli è estraneo Ma chi gestisce il Milan Gerry Cardinale Non può dirsi estraneo Perché è dentro Assolutamente Max Ti chiedo Ovviamente domanda provocatoria C'è il rischio Che Ocatri Possa prendersi l'Inter A pochi giorni Proprio dai festeggiamenti Dello Scudetto No io questo non lo so Io posso dirti solo Che una persona Che si è incontrata A Riad Con ausilio Ok E ha portato Un'offerta Importante Per Carboni Da un club inglese Ti dico anche Tra i 15 e i 20 milioni Di pound Carboni è il giocatore Che sta in prestito Al Monza Ausilio Ha rifiutato L'offerta Quindi da qui Il pensiero Che Insomma Che economicamente L'Inter sta bene Ma successivamente Ausilio Ha comunque manifestato A questo agente Insomma Il disappunto O quantomeno Insomma Il mistero Che Insomma Si stanno Da un bel po' di mesi Gestendo In modo autonomo Perché È da parecchi mesi Che non vedono La proprietà E questo è abbastanza Insomma Inusuale Soprattutto Per una squadra Che a livello sportivo Sta andando bene E quindi Credo che Qualche cosa Ci sia Di Così Di misterioso E poi Se vengono fuori Queste cose Dove Insomma Sei in mano Comunque A delle società Che ti Elargiscono Dei prestiti Con dei tassi Che sfiorano Molto Sì Esatto Che sfiorano L'illegale Addirittura E quindi Ci sono sicuramente Delle situazioni Positive Ma In contrasto Ci sono delle situazioni Quanto meno Insomma Con dei punti Di domanda Questo è sicuro Mariana Secondo te Quale potrà essere La soluzione A messo in concesso Che ci sia Che futuro vedi Cioè l'Inter Riuscirà a pagare Il proprio debito O no Eh lo so La soluzione è pagare Certo che la soluzione è pagare Avverrà questa cosa Su carta Su carta Da quello che ovviamente Possiamo vedere noi Intuire noi Questa cifra Non è abbordabile Da parte di Zang Il rischio Che vada a perdere L'Inter È molto alto Però questo rischio Comunque l'ha avuto Anche un paio d'anni fa Però casualmente I soldi poi sono arrivati Anche più di un anno fa Mariana Sì però l'ha avuto In due situazioni Forse la seconda volta Era stata meno marcata Però comunque Era di nuovo successo E questa sarebbe Già la terza Però magicamente Sull'orlo Quindi al limite Quando poi stavano Subentrando i fondi Catariotici I fondi Forse c'era anche Catariotici Scusami PIF Ce n'erano stati 3 o 4 9 Philips anche in mezzo Due anni fa Insomma Quando stavano Per subentrare O comunque C'era la possibilità Concreta di farlo I soldi arrivavano Spuntavano magicamente Quindi potrebbe essere Che anche questa volta Insomma Qualcosa cambia A meno che In realtà Questo dio di Ipotetico dio di Marotta Non sia proprio Mettere la mano avanti Ha una conseguenza Della cambio di società Difficile Anche perché Non sarebbe la prima società Ceduta poi un fondo Cioè quindi Da quel punto di vista Anzi Potrebbe essere una roba Programmata Comunque che si sa Nell'ambiente Anche perché Se diventa sempre meno forte La proprietà di Zhang Cioè Quanto meno Latita sempre di più Nella presenza E oggi nel recupero Di capitali Possiamo pensare Che il passaggio A un fondo Come è successo In passato al Milan Sia in programmazione E a fronte di questo Marotta Porti le mani avanti Dica Ragazzi Tra un po' smetto Perché è anche strano Che lui si esponga In maniera così plateale In anticipo Eh effettivamente Ci potrebbe stare Come teoria Marcello Questa No no Ci sta Ci sta Però ripeto È una situazione Molto delicata Perché effettivamente Zhang Si trova veramente In cattiva acqua Cioè in totale Sono 670 Tra quelli che deve dare Occhi tri Tra quelli che deve dare I creditori Sì però esatto Sono due cose Comunque separate In un qualche modo Sono soldi suoi Sono soldi suoi Però scusate Mamma Rotta Ma perché bisogna Pensare che lui Abbia detto questo Per la situazione economica Se era per quello No no È un'ipotesi Un'ipotesi Allora io ti dico Se è per quello Allora già quest'anno Dice a fine anno Seconda stella Se vincere la seconda stella Vado via Eh perché il suo contratto Scade nel 27 Eh ho capito Ma lui può anche disdirlo Pensi che non possa Si sa che la situazione Economica E societaria È proprio così disastrosa Un uomo come Marotta Dell'esperienza che ha All'interno di un sistema Dove sa tutto Giusto? Beh ma Forse non vuole Abbandonare la nave Non lo dice Se lo potrebbe farlo anche prima Potrebbe farlo anche prima Ma non può dichiarare Che va via adesso Eh Perché Se fosse mai Perché non potrebbe dire A fine anno vado via Perché Beh perché magari Potrebbe anche influenzare Ipoteticamente Sull'andamento Della squadra Ebbè potrebbe farlo Anche se dici Vado via tra due anni Ma non è l'immediato Difficile che lo facciano Gli allenatori No ma io posso anche dire Cosa dire A fine anno A fine anno Se raggiungiamo Sto obiettivo Vado via Ma se dice il 27 Il 27 Se sa che la società Sotto l'aspetto economico Non ha più La possibilità Di andare avanti Max Secondo te Questa cosa È legata Ossia Il fatto che Marotta Abbia già dichiarato Che nel 2027 Saluterà l'Inter Potrebbe essere legata In un qualche modo Ai debiti E quindi anche Il futuro di Zhang Ma a me Di Marotta Mi hanno detto Ancora qualcosa Di ancora Diverso Ma non di Marotta Di chi ha cercato Marotta In questo periodo Perché a me hanno detto Che la Juventus Nella persona di Elkan Ha cercato Marotta Poi io non so la risposta Che ha dato Marotta A Elkan Però io so di per certo Sempre da un agente Molto vicino a Marotta Che Elkan In questo periodo Ha cercato Di convincere Marotta Di tornare alla Juve Quindi io ho Questa notizia Sul fatto che poi Un tesserato Dica delle cose E poi non le fa Ne abbiamo già viste Tante Magari sarà ancora Il direttore dell'Inter Per altri dieci anni Io non lo so Sono queste E poi comunque Un tesserato Che fa E comunque L'amministratore delegato Che può comunque Dare dimissioni E quindi abbiamo visto Giuntoli Aveva ancora Un anno di contratto A Napoli Puoi mettere Il bastone tra le ruote Ma fino a un certo punto Perché non è che Puoi tenere Un direttore In una società Dove non vuole stare E quindi alla fine Lo devi lasciare andare Io credo che Marotta Abbia in mano La propria Il proprio finale Di carriera E decida poi lui Il meglio Che deciderà Di fare per lui Certo che anch'io Lo vedrei bene In federazione Onestamente Di uno spessore Un dirigente Di uno spessore Importante Con una grandissima Esperienza Anche se poi Mi è stato addirittura Detto che forse Vuole entrare in politica Eccetera Eccetera Insomma È comunque Un personaggio Molto molto Bravo Molto capace Con tantissima esperienza Spero che Insomma La continui a mettere A disposizione Di tutti Anche dei giovani Perché no Benvenga E vedevo anche Annuire Che potresti sposare L'ipotesi Di Massimo Sicuramente Sì È una persona È un dirigente Che in questo momento Nel calcio Potrebbe occupare Qualsiasi ruolo Però Detto questo Tu Hai appena Detto l'anno Che gli scadrà Il contratto Ripeto Io non so Fin quando rimarrà Sede Rimarrà fino al 2027 O no Però io credo Che Sono d'accordo Con Massimo Quando dici In federazione Può entrare Occhi chiusi E benvenga Un personaggio Del genere Perché ultimamente Secondo me Di questa importanza E questa bravura Parlo nell'ambito Proprio calcistico Ce ne sono stati pochi Perciò Uno come Marotta Può essere Molto molto utile Concludo con Marcello Ah Marcello Non si ricorda più Ti ricordo Anche perché Scusami Marcello Poi mi direi la tua Ma io ho sentito Che Max ha detto Una cosa molto interessante Juve Eh sì Ma Max L'aveva detta Già mesi fa Ma un rituato Di Marotta Alla tua Juventus Una sua indiscrezione Personale Ma non lo so Cioè lui di sicuro Ti farebbe felice No vabbè però Scusa Marcello Perché vorrei Scusa però Marcello Scusa Marcello Aspetta Perché Quando uno poi dice Una cosa Io vorrei chiarirla Questa cosa Perché se no Allora Quando io dico Elkan Ha cercato Marotta Non ho detto Marotta Poi che me la vendano Poi che me la vendano O non è detto Che io abbia i soldi Ma in questo momento Sta vincendo con l'Inter Secondo perché Non è detto Che il progetto È giunto lì Anzi andrebbe Ad affiancare O si affiancherebbero A vicenda Lì Alla Juventus Ma questo Non è detto Che accada Ho detto Semplicemente Che una persona Molto vicina A Marotta Ok È venuta a sapere Dal diretto interessato Che c'è stato Questo avvicinamento Da parte Di Di alcuni collaboratori Del signor Elkan Va bene Va bene Grazie per la presentazione Volevo Devi andare in pubblicità Andiamo in pubblicità Guarda che non si ricorda No no Scrivitero Guarda che non si ricorda Faglielo dire adesso Non sia mai Mariana Faglielo dire adesso Dai dai Sputta il rospo Dai sputta ste rospo No È che No è che zang Cioè questa storia Come dicevo prima Lui è il proprietario Quindi C'ha da pagare Comunque Gli stipendi di Marotta Che non è Roba da poco Stipendio di ausilio Non è roba da poco Antonello Soprattutto i giocatori Il futuro contratto Di Lautaro Non so Esatto Poi ci sono i giocatori I contratti L'ha già firmato Più ci sono I fornitori Tutte le altre cose Che competono Alla gestione Sono in capo Alla gestione Dell'Inter Il fatto che lui Non ha sti soldi Cioè è vero Che noi abbiamo detto Prima Finora Marotta Marotta È stato molto bravo Ad utilizzare Le finanze Dell'Inter Ma le finanze Dell'Inter Cioè Non ce l'ho finiscono Ci vuole sempre qualcuno Che Non a caso La Juventus Fa l'aumento di capitale L'ha fatto tre volte Perché? Perché alla fine Serve sempre Che quello là Ti dia un po' di soldi Ma adesso però Ma io quello che ti dico è In questa cosa Marotta Sicuramente non si può Fare carico L'Inter non è di Marotta L'Inter è di Zhang E allora io vi domando E poi andiamo in pubblicità Vai No Scusa Quando fai la domanda Perché adesso La sparo Vai Vai Spara Mi ci piace Vai Spara Ma in questa situazione L'Inter si può iscrivere Al campionato Ma Ecco Per favore Puoi andare in pubblicità Andiamo in pubblicità Puoi andare in pubblicità Pubblicità Torniamo da voi In tra poco Era meglio che andavi prima